quando ci arriva un cane di questo tipo in tolettatura è importantissimo spiegare al cliente che appunto in questi primi mesi di vita il cane va lavato con una frequenza che può essere o settimanale o quindicinale piuttosto che procedere a una rasatura che è assolutamente scorretta lavorateli con la spazzola con il pettine magari con qualche condizionatore prima di decidere di metterli in basque questo è il nostro shampoo volumizzante come fatto per l'altro lo vado proprio a mettere dappertutto ovviamente cane volumizzato abbiamo ricontrollato tutto il manto con il pettine e ovviamente non ci siamo fatti mancare lo spray volumizzante che mi crea una linea immaginaria che dalla punta del tartufo arrivi alla punta della spalla ciao ciao